E' stato inaugurato oggi il servizio Mensa della sede universitaria di Valmaura, un polo che nel tempo è stato sempre molto frequentato, frenato in presenza solo dal Covid, ma che in media vede la frequenza di circa 400 persone. Il servizio Mensa sarà curato dalla Sodexo e sarà operativo da lunedì a venerdì con orario 12.45-13.45. I ragazzi potranno usufruire solo di pasti interi che andranno prenotati nei giorni precedenti entro le 6 del giorno scelto. Entro la stessa ora sarà possibile annullare l'eventuale prenotazione effettuata. E' un segnale importante perché dopo oltre 5 anni di stallo gli studenti di questo polo didattico avranno la disponibilità del servizio Mensa, che va ad aggiungersi ai servizi Mensa che sono rimasti aperti durante tutto questo periodo all'interno delle sede universitarie e che si aggiunge anche all'utilizzo, alla possibilità da marzo di utilizzare l'app sulla prenotazione dei pasti per garantire tutti i percorsi di sicurezza e di distanziamento necessari in questo periodo. Gli universitari potranno scegliere fra tre menu, aggiornati ogni due settimane, consultabili sul sito dell'ARDIS. La prenotazione può avvenire anche attraverso l'app Bucamil. Le tariffe per gli studenti variano, a seconda dell'ISEE, da 2,15 euro a 4,80 euro. In questo contesto proprio l'ARDIS ha voluto ribadire la bontà dell'applicazione, ma anche del ruolo di continuità che ha caratterizzato il proprio operato. L'ARDIS non ha mai abbandonato gli studenti anche in pieno lockdown, nel senso che noi abbiamo garantito, eravamo sempre aperti, abbiamo garantito sempre i servizi con molte difficoltà, devo dire sinceramente, è stato un periodo molto duro, però li abbiamo sempre supportati, sempre sostenuti e questo loro lo sanno. E questo, in questo momento, credo che sia un messaggio di speranza per arrivare alla normalizzazione, un ritorno alla normalità quanto prima.